... Stefano, vediamo delle divise alle tue spalle ma non sono quelle dei carabinieri o della polizia. Buongiorno. Sì, buongiorno. Noi siamo qui nella sala operativa del Corpo di Vigilanza Notturna di Rovereto, un istituto di vigilanza privata che ogni notte manda in strada 16 pattuglie per controllare la proprietà dei suoi oltre 1800 clienti sparsi in tutta la provincia. Questa è stata una notte tranquilla, come ci dicono, è usuale in questo periodo. Ne parleremo con il signor Antoniolli che è il responsabile e il capo delle pattuglie e con la signora Bombardelli che ogni notte segue le operazioni qui dalla centrale operativa. È un servizio molto importante, molto complesso anche nella gestione. Cerchiamo di capire come funziona la vigilanza privata che è a tutti gli effetti uno dei tasselli che insieme a polizia, carabinieri e altri organi pubblici vanno a comporre quello che è il servizio di ordine pubblico nelle nostre città e nelle nostre valli. Stefano. Siamo con il signor Antoniolli che guida le pattuglie. Questa è stata una notte tranquilla, che tipo di notte è stata? Sì, notte relativamente tranquilla, solo un paio di fasi allarmi, però gestiti più che altro per problemi tecnici. Il resto è routine, porta aperte, finestra aperta e anche quelle risolte con l'intervento del cliente. Niente di particolare come segnalazioni. Quindi non ci sono stati furti? No, per quanto riguarda la nostra situazione nessun tipo di segnalazione. Questo mi dice normale per questo periodo, qual è però il periodo con più attività? Certo, questo è un periodo un po' calmo, è un mesetto che a parte qualche picco particolare non ci sono stati problemi e ci aspetteremo invece sicuramente, come è successo anche negli anni passati, il periodo delle festività natalizie quando sicuramente negozi e fabbriche e via dicendo hanno più giro di denaro e anche più merce sugli scaffali. Quindi più appetibili per i radi. È vero che nel vostro lavoro negli ultimi anni diminuiscono sempre più i falsi allarmi e ci sono sempre più interventi effettivi? Sì, purtroppo sì, abbiamo avuto questo piccolo cambio di tendenza e ci siamo accorti che effettivamente quando interveniamo su un allarme non è più il falso allarme o perché il cliente sia sbagliato ma purtroppo troviamo anche effrazioni vere e proprie. Voi intervenite e portate la pistola, avete il porto d'armi, ma in che modo siete addestrati? Quanto potete utilizzare la pistola? Sì, noi abbiamo la pistola, l'uso della pistola con un porto d'armi di difesa personale e viene utilizzato principalmente proprio per difesa estrema personale. Solo in caso estremo? Esatto, in caso di intervento prima di arrivare all'uso dell'arma bisogna essere proprio in totale problematica insomma di vita. Comunque siete addestrati ad utilizzare? Sì, esatto, abbiamo i nostri addestramenti periodici durante l'anno presso il poligono e di conseguenza tutti i colleghi e tutto il personale sa utilizzare perfettamente l'arma. Va bene, grazie Antonio. Invece con la signora Bombardelli vorrei vedere come funziona il vostro sistema, ci fa vedere? Abbiamo dei software dove riceviamo gli allarmi. Quando riceviamo un allarme di un cliente contattiamo la pattuglia che è nella zona del cliente e la inviamo sul posto. Se la guardia vede che c'è un'effettiva effrazione contattiamo le forze dell'ordine e se c'è bisogno anche il cliente stesso ed effettuano un'ispezione. Ecco, ci sono anche numerose telecamere collegate con voi, quante sono? Ma circa per 80-100 clienti un cliente può collegarne due fino anche a 15-20 telecamere. Ecco, ci spieghi una cosa, come è cambiato il vostro lavoro? Cioè, è un settore in aumento questo? È in costante aumento, anche perché il nostro territorio sta cambiando. Vista la situazione anche a livello nazionale, i clienti o anche gli eventuali clienti del futuro cominciano a essere un attimo preoccupati e allora chiedono anche il collegamento con il loro impianto d'allarme per essere anche tutelati ed aiutati in caso di necessità. Un'ultima curiosità, oltre a banche, grandi istituti, avete anche dei privati, delle case. quante in ordine di grandezza? Ma dai 100-150 privati come appartamenti, poi abbiamo i negozianti, gioiellerie e via dicendo. Va bene, grazie. È tutto direi da Rovereto, la linea allo studio. Grazie. Grazie. Grazie.